Una finta sorda è stata smascherata dall'assessore pesarese Enzo Belloni che in sella la sua bicicletta ha seguito la donna nel centro storico in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Vediamo allora un breve strato del video girato da lui stesso in diretta sui social questa mattina. Chiamiamo la polizia, sto chiamando, sto chiamando la polizia, sto chiamando la polizia, non ti preoccupare. Adesso arrivano, fanno camminare un pochino, finti sordi, adesso la signorina va a prendere il compagno che la caricherà sulla macchina. Vediamo un po', fin tanto che arrivano i vigili, non dategli niente, ho questa camicia qui. Adesso la faccio camminare un po' stamattina, aspetta, no devo stare dietro a queste, finti sordi, aspetta che arriva la polizia un attimo. Vieni con me, ciao. Hanno finta di chiedere i soldi, e stamattina si muove con un po' di ginnastica, li facciamo fare. Grazie. 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 Grazie.